Se stai riscontrando problemi riguardo a errori DirectX sulla tua scheda grafica Nvidia è possibile risolvere tutto attraverso dei link che ti ho lasciato in descrizione quindi in poche parole dobbiamo solamente aggiornare i driver della nostra scheda video e installare l'ultima versione di DirectX Ovviamente prima di cominciare c'è una playlist intera di Call of Duty e Warzone su tutti gli errori da seguire per risolvere così i suoi problemi tipo problemi di connessione, problemi di crash, problemi DirectX, problemi soprattutto anche all'avvio di Call of Duty quindi c'è la playlist direttamente sul canale quindi in questo caso ti consiglio anche di guardare gli ultimi video che ho lasciato sul canale riguardo al che crasha sempre codice errore 0x1 e non si avvia quindi in questo caso passiamo direttamente al DirectX Nvidia app quindi in questo caso se tu scarichi così l'applicazione Nvidia app che ti ho lasciato in descrizione per esempio vado direttamente su Nvidia app vado su driver qua sopra dove c'è scritto drive game ready clicca qua sopra aggiorna e vedi se devi fare qualche aggiornamento scarichi e installi l'aggiornamento l'ultimo aggiornamento che ho fatto sul mio computer è stato il 20 di agosto 2024 quindi io non ho problemi riguardo a DirectX, problemi di scheda video o altri errori perché io aggiorno sempre i driver sul mio computer quindi ti consiglio di aggiornare i driver della tua scheda video se invece usi GeForce Experience scarica così GeForce Experience è la stessa cosa vai su driver scarichi e installi l'aggiornamento anche qua la stessa cosa driver GeForce qui puoi scegliere così il tipo di prodotto io per esempio uso GeForce Serie di prodotto uso la 1660 Super quindi in questo caso vado direttamente su GeForce quindi in questo caso vado direttamente su GeForce 16 serie 1660 Super Windows 11 italiano tipo di download metti solamente Drive Game Ready perché è quello per giocare e invece usi programmi che usano la scheda grafica diciamo che ha bisogno della scheda grafica al massimo con driver tutti aggiornati ti consiglio di fare tipo di download tutto se invece usi il computer solo per giocare metti i driver game ready e fai avvia la ricerca come puoi vedere ti ho lasciato anche questa pagina del driver GeForce di DirectX che ti porta così su tutti i link di DirectX 12 Ultimate come ultimo link invece c'è DirectX and User Runtime quindi scegli così la tua lingua e scarichi così i DirectX scarichi e installi i DirectX ed eccolo qua accetto il contratto faccio avanti tolgo questo perché non mi serve faccio avanti e installo l'ultima versione di DirectX per non avere problemi una volta fatto fai fine puoi anche dare sul tasto Start di Windows gestione dispositivi e dei video maggiore una driver cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili la tua scheda video fai avanti e installi se non dovesse bastare vai direttamente su Windows Update verifica la disponibilità degli aggiornamenti scarichi e installi l'ultimo aggiornamento che hanno rilasciato ho aggiornato così Windows proprio ieri il 30 agosto quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare altre guide a riguardo quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao